Sono 120 gli alloggi a Rovigo pronti per essere assegnati, ma molti altri sono gli aiuti che il Comune sta predisponendo per sostenere le famiglie colpite dal Covid. Per telecittà siamo venuti qui a Rovigo per raccontarvi questa notizia così importante per la città polesana. Ad esempio per sostenere le spese di affitto con ben 270.000 euro. Al fondo potranno accedere coloro che dispongono dei sei non superiore a 6.700 euro. Ancora oltre alle risorse della Fondazione Cariparo per 75.000 euro, si è arrivati a un tetto di 390.000 euro con cui si aiuteranno le persone che non ce la fanno con le utenze domestiche. Ritorneranno poi i buoni spesa per un totale di 350.000 euro per famiglie con un reddito ISEE inferiore a 18.000 euro. Chi li ha già ricevuti, si tratta di circa 950 famiglie, potrà confermare la situazione reddittuale sul portale del Comune. Gli acquisti potranno essere effettuati sui negozi che hanno aderito all'iniziativa. Sono in spedizione gli SMS che ricordano di fare domanda. Le informazioni sui bandi saranno possibili anche grazie allo sportello integrato comunale che riaprirà a breve. Al via anche il servizio di accompagnamento anziani per la vaccinazione. Intanto nel centro della città, da venerdì, ritorneranno le bancarelle della fiera. Saranno ben 250 le bancarelle e tra queste anche alcuni punti vendita nuovi che hanno sostituito quelli non più attivi anche a causa del Covid. Per accedere servirà il Green Pass ed i controlli saranno a campione. L'area principale della fiera si snoderà attorno alle piazze principali. Sempre da venerdì, nel padiglione E del Censer, tornerà la fiera campionaria con 150 espositori tra enti ed aziende.